Rimodella e scolpisci il tuo corpo mentre sei in ufficio, mentre fai shopping, mentre ti godi un momento di relax. Come? Con FitPad 6x4, il rivoluzionario sistema senza fili che si nasconde sotto i vestiti e che stimolando i tuoi muscoli ridona al tuo fisico un aspetto sano e atletico come quello che lunghe e faticose ore di palestra potrebbero darti. FitPad 6x4 è il sistema che metterà fine al rilassamento del tuo addome, ridisegnerà i tuoi glutei e tonificherà le tue braccia. Non avrai più paura di vestire una camicetta attillata, di indossare un abito elegante senza maniche, di infilare i tuoi leggings preferiti. Bastano 30 minuti di allenamento al giorno. Sì, allenamento è la parola giusta per definire il lavoro specifico che FitPad 6x4 esercita sulle zone del tuo corpo che hai deciso di far tornare toniche. FitPad 6x4 è la vera novità del mondo del fitness perché è stato pensato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata. È stato pensato per essere sottile, ultraleggero e flessibile per accompagnare perfettamente le forme del vostro corpo. Realizzato in morbido silicone, il sistema FitPad 6x4 è un sottilissimo elettrostimolatore facile da applicare grazie ai fogli in gel altamente adesivi che servono per distribuire uniformemente gli impulsi che elettrodi sottili e duraturi ad alta conduttività indirizzano sulla parte del corpo dove sono applicati. È un sistema di elettrostimolazione che fa lavorare i vostri muscoli in modo scientifico grazie a programmi specifici che vi danno la possibilità di scegliere quello più adatto alle vostre esigenze e che è stato studiato seguendo un percorso di allenamento diverso da quelli che avete provato in passato. Oggi il vostro allenamento inizia con graduale intensità portandovi ad un livello ottimale solo nel momento in cui i vostri muscoli sono pronti per lavorare più intensamente. Un sistema efficace che lavora per voi. Non dovrete fare fatica per tornare ad avere un fisico invidiabile. Un corpo tonico e scolpito che tutti guarderanno con ammirazione. Nessuno si accorgerà che mentre state facendo shopping state sostenendo un vero e proprio allenamento sportivo senza faticare, senza sudare. Fitpad 6x4 è l'invisibile segreto della vostra perfetta forma fisica perché si nasconde perfettamente sotto i vestiti. Mai più braccia flaccide, mai più glutei mollicci. Oggi per voi è arrivato Fitpad, il rivoluzionario sistema di allenamento per riacquistare una forma fisica perfetta al fantastico prezzo in sovraimpressione. Ma attenzione, chiamate adesso perché solo oggi, allo stesso prezzo, riceverete anche le alette, braccia o glutei, tutto all'incredibile prezzo che vedete. Chiamate subito per avere il vostro Fitpad 6x4. Una palestra invisibile sempre con voi, pronta a regalare elasticità e tonicità ai vostri muscoli in ogni momento della vostra giornata.